registriamo un videino che parla di modifiche attese per la model 3 no tesla starebbe pensando ad un nuovo volante nuovo display e pompa di calore queste sono delle cose a parte il display ma il volante che a molti non piaceva a me sinceramente semplice piccolino così è sempre piaciuto molto ma alcuni lo criticavano e la pompa di calore per il riscaldamento e chiaramente raffreddamento raffrescamento dell'abitacolo in realtà è molto desiderata perché poi alla fine si parlava di pseudo resistenze poi invece si è capito anche attraverso un video di ema moto sport che in realtà c'è un compressore anche qua con due pistoni che si muovono per fare freddo fare caldo chiaramente non è attaccato all'albero motore attraverso una puleggia come nei motori a combustione perché qua l'albero motore non c'è ma funziona in una maniera diversa chiaramente è elettrico però il discorso della pompa di calore era da molti desiderato perché aumenterebbe ulteriormente l'efficienza delle batterie e la durata perché chiaramente la pompa di calore assorbe meno potenza meno energia nelle ultime ore si moltiplicano quindi le indiscrezioni dice l'articolo che poi vi chiaramente linkerò in descrizione proveniente dalla cina che parlano di un rinnovamento del fortunato modello di tesla cioè la model 3 nuovi computer di bordo e volante ma ci saranno anche novità estetiche ve lo rassumo per non star qui a leggerlo parola per parola e quindi a pochi giorni attesissimo battery day che dovrebbe essere la settimana prossima l'evento appunto che dovrebbe è molto atteso per le novità che il masker dovrebbe dichiarare per quanto riguarda le batterie di nuova concezione però si parla anche di appunto model 3 model 3 si parla di un computer di bordo nuovo che è poi mutuato dalla model y quindi quello che c'è già sulla model y il volante che dovrebbe avere dovrebbe essere esteticamente diciamo un po più ricercato con l'aggiunta di comandi ulteriori come è già su molte altre vetture chiaramente poi si parla del porta bagagli anteriore il cosiddetto frank che si è potuto notare come sulla model y nonostante la macchina sia più grande è più piccolo questo probabilmente per fare spazio ovviamente in maniera non visibile alla pompa di calore e quindi anche qua sembrerebbe che sulle nuove model 3 ci sarà il franca anteriore cioè il bagagliaio anteriore più piccolo per far spazio alla pompa di calore poi c'è una serie di sono annunciate una serie di modifiche al design quindi fari e eliminazione delle cromature ora tutti sono sempre stati ce l'hanno sempre avuto con le cromature della model 3 non riesco a capire perché a me sinceramente piacciono molto e fanno anche lusso qualcuno mi ha detto è proprio perché fanno lusso invece noi vorremmo che facessero più sport più sportivo e quindi la cromatura con lo sportivo non va d'accordo e allora a lei vai giù di finiture black satinate mica satinate finiture simil carbonio e quindi qui appunto dice ma nel momento non guarderebbe solo la pompa di calore ma toccheranno anche l'estetica dell'auto e innanzitutto sembra essere confermata l'eliminazione di tutti gli elementi cromati in linea su quanto fatto con model y non cambieranno anche i fari anteriori e quelli posteriori molto simili anche questi alla model y quindi avremo una model y model ipsinolizzazione della model 3 quindi fino adesso mi ha detto la y è molto simile alla model 3 in realtà poi adesso la model 3 diventerà più simile alla model y l'ultima modifica infine riguarda il bagagliaio che userà un meccanismo d'apertura elettrico e questo qua sinceramente è una grande figata perché anch'io mi sono effettivamente dopo un po ci si stanca di litigare sempre con la chiusura del portabagagli posteriore avevo anche pensato di montare aftermarket un sistema elettrico perché effettivamente dar sempre quel colpo dalla maniglia dentro insomma è un po' una scocciatura tra l'altro le 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 pompe della 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 del bagagliaio posteriore della model 3 sono anche piuttosto resistenti quindi devi sempre dare una certa vincere una certa resistenza usare una certa forza nel nuovo model 3 saranno sembrate principalmente lo stavvenimento di shanghai anche qua notizia di ieri o dell'altro ieri o forse delle settimana scorsa perché quale giornate passano velocemente si perde la cognizione del tempo che sembra che ora una parte della produzione del model 3 in cina venga dirottata in europa e non rimanga più solo destinata in cina e anche qui all'annuncio di questa notizia ci fu un rimbalzo in borsa del titolo tesla e quindi c'è stabilimento cinesi shanghai e questo particolare sembra da forza le indiscrezioni rilasciate da bloomberg secondo cui tesla sarebbe intenzionata ad esportare in tutto il mondo le auto prodotti in cina come appunto vi ho detto insomma c'è tutta una serie di news che riguardano la mitica model 3 staremo a vedere se si concretizzeranno o meno ma quanto pare sembra di sì quindi viva le auto elettriche viva tesla e viva model 3